allora giochiamo per matteo ok giochiamo facciamo finta di giocare con al lato va bene passaggio a 4 and off andiamo via fingiamo di giocare un piccherò al finale con 5 però diventa un blocco a scendere per due ok attacchiamo questo spazio per finire diamo una seconda linea di passaggio se c'è cambio immediatamente giochiamo per il mismatch interno ok e finiamo sul lato debole per muoverci facciamo un down screen